Ciao ragazzi benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, oggi ritorniamo sempre qui con FIFA 17 per partecipare alla FUT Championship, cercare naturalmente di qualificarci alla Weekend League del fine settimana, provando a fare qualche piccolo cambiamento anche nella formazione perché ci sono alcuni giocatori che ancora non mi convincono tanto naturalmente come al solito il video come sempre a mettere un bel po' c'è il suo, un bel commento è un bel mi piace, è la prima di andare davanti al momento, ci indiciamo come al solito saluti e partiamo in successione con Napoli 31, Solinino, Trio 3, 6902, Ole però spero che questa vettura vi stia piacendo, naturalmente ci andiamo ad affrontare la prossima partita e vediamo che cosa affrontiamo, allora questa sulla carta non dovrebbe essere forte dico non dovrebbe essere forte però poi vediamo dai ehi, allora cambiamenti ne ho fatti ho preso anche Bruno Peresci, ho messo wow 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 ma queste sono le cose che mi fanno incazzare mi fanno incazzare ok vai vai ok vai Berardi vai ma ma che colpo ha fatto di testa tutto storto la bellissimo ho sbagliato qua, qua dovevo passarla chi era Berardi là vai guarda come si infila vai ragazzi ragazzi Dzeko è caldo è caldo vai in mezzo Dzeko vai in mezzo vai in mezzo eccolo eccolo e vabbè dai ma ne ma ne ma attenzione no va bene bravo oh aio questo era un mezzo falletto bravo Giorginio così ti voglio cattivo dalla subito bravo Bruno bravo Dzeko fatti vedere eh sì va bene ok mamma che sera mangiato insinio guarda lì e allora e allora gliela togliamo no ok bravo vai vai sopra dalla sopra ok perché c'è il più basso in mezzo non può sbagliare da lì e ha sbagliato guarda che questo è bello Berardi oh no e stiamo a due Dzeko dai ci siamo ricompattati vai no oh buco 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 mamma mia bravo e bravo ha fatto bene spazza via perché qua abbiamo tutta la seccia possibile e immaginabile addosso attenzione no ma come buffon ma che mi hai fatto dai ma speriamo porca paletta ma come mi sono tolto art che pisciava in continuazione guarda lì che fantastico sono un po' marcato qua è buono è buono va bene non fa niente tempi supplementari lo sapevo che andava a finire così attenzione bravo oh questa è falda ah che oh e andiamo questa così ce la facciamo bravo che varia o perdiamo tutti gli inter no oh e portiere oh pardon non è a rigore orchia miseria e fallo no non riesco a uscire non riesco a uscire ok grande siamo usciti proprio con stile stiamo usciti con oh oh no ok se perdiamo è colpa mia mi sono mangiato un gol esagerato attenzione mamma mia ragazzi bravissimo che è stato a difendere aia attenzione ok è nostra vai ok la prima partita l'abbiamo vinta ci accingiamo ad affrontare la seconda partita quindi ottavi andiamo verso i quarti cioè siamo ai quarti e dobbiamo quindi affrontare la prossima partita per arrivare in semifinale ok questo sembra più forte di quello di prima però eh vabbè non ci scoraggiamo del resto capita spesso di beccare anche squadre più scarse e che poi alla fine ci fanno il culo ciao 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 ok giochiamo come prima non speravo che vinciamo e va bene così stiamo giocando aah che palla di merda che mi hai dato no mamma mia ragazzi abbiamo già rischiato fatevi vedere bello bello oh e andiamo uno due ta ta entriamo subito bravo gecko la messa nell'angolino vai e questa era facile qualcuno è in mezzo si aah che ti è successo gecko che ti è successo ah era in angolo ok ok vai berardi vai berardi ok nessuno che c'è in mezzo nessuno è in mezzo ma no ci ha blocchiato bravissimo recupera subito oh ah cazzo ancora vai all'an attenzione all'an è il terzo tiro che ti mangi vai no si dai e andiamo ma che Giorginio oh è berardi è berardi guarda là che cannetta bravo berardi bravo ti al ah ma l'hai l'ha presa non lo fa scendere non lo fa scendere che paratola e qua abbiamo sbagliato eh vai lorenzo vai ok 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 no e vabbè dai eh è angolo è angolo ok dai ok buona aia uh Bruno Perez portiere che si allunga e sventa la minaccia ancora angolo aspetta aspetta dai vai 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 in mezzo vai in mezzo vai in mezzo vai ebuna che peccato Geko non si è saltato ok vabbè ok dalla porca miseria è il sesto angolo che facciamo ok e dalla porca miseria ma se è stato incollato dai contro piede vai di contro piede vai uh vai allan vai allan in mezzo in mezzo andiamo che azione ragazzi che azione da spiegare a pittare perca paletta lo sapevo che pittava vabbè non fa niente l'importante è aver portato a casa il risultato quindi due partite vinte siamo in semifinale se vi vi piacerebbe questo naturalmente sapete che cosa fare mettere un bel pollice in su un bel commento un bel mi piace cercheremo quindi di fare cercheremo faremo sicuramente anche la semifinale e se passiamo anche la finale detto questo spero di sapere questa divisione mi dica sempre i commenti se ti piace non ci vediamo se la prossima video e bye bye